Ben ritrovati insieme in questo nuovo appuntamento. Quest'oggi andiamo a vedere come installare Basilisk. Per chi non lo conoscesse, Basilisk è un autoemulatore per utilizzare System 7 e Mac OS 8 all'interno del vostro computer. È un po' il fratello minore di Shipshaver, che abbiamo già visto in passato. L'interfaccia è praticamente la stessa, così come le sue funzionalità. Come sempre, tutti i link li troverete in descrizione. Ed ora andiamo a vedere come installarlo. Per poter creare il nostro Macintosh virtuale, oltre all'omonimo programma, servirà la ROM di un computer Macintosh, che ci permetterà l'accensione della macchina virtuale. Poi, ovviamente, il disco di avvio di System 7 o Mac OS 8, che ci permetterà di far avviare il nostro sistema. E se inoltre volete installare il sistema Apple, potete aggiungere anche il disco di installazione. Dirigiamoci sulla pagina ufficiale del progetto. Come sempre, troverete i link in descrizione. Quindi selezioniamo il link per scaricare la versione più aggiornata del programma. Rispetto alle versioni precedenti, non servirà più installare componenti o librerie aggiuntive, perché ora è tutto integrato all'interno dell'archivio ZIP. Dopo aver scaricato l'archivio, estraete tutto il suo contenuto all'interno di una nuova cartella. Dopodiché, apriamo la cartella e troveremo al suo interno due applicazioni indispensabili. Il primo, Basilisk 2, permette di accendere direttamente fin da subito la nostra macchina virtuale, ma per poterla configurare, apriamo Basilisk 2 GUI. L'interfaccia grafica che si aprirà davanti a noi, ci permetterà di aprire, creare o configurare un disco virtuale, cambiare risoluzione, abilitare o disabilitare l'interfaccia di rete, aumentare o diminuire la memoria RAM della nostra macchina e impostare un file ROM. La scheda principale ci permetterà di inserire dei dischi virtuali. Con il tasto ADD possiamo aggiungere il disco di avvio per il nostro Macintosh. Certo, l'aspetto non aiuta molto, ma ricordatevi che nella colonna a sinistra ci sono le cartelle, con i due puntini che permettono di andare indietro di una cartella. Mentre nella colonna a destra troviamo i file che possiamo selezionare. Trovato il file, confermate. Se vogliamo rimuovere un disco, basta premerlo e selezionare Remove. Se invece vogliamo creare un nuovo disco virtuale, ad esempio per installare il sistema Apple, basta andare su Create. Scegliete la località dove salvare il disco e date un nome al file. Quindi impostiamo la dimensione del disco in megabyte. Vi consiglio dai 250 e 500 megabyte. Se avete un cd originale di System 7 o Mac OS 8, potete utilizzarlo con Basilisk. Basta solamente rimuovere la spunta centrale e selezionare la lettera dove è presente il lettore disco. Nella seconda scheda, Graphics & Sound, oltre a scegliere se abilitare o disabilitare i suoni, possiamo impostare l'interfaccia a schermo intero o in una finestra. Vi consiglio quest'ultima. La frequenza di aggiornamento e la risoluzione dello schermo. Vi consiglio 800x600. Nella terza sezione, quella dedicata alle tastiere e ai mouse, potrete modificare magari il comportamento della rotellina del mouse. La quarta scheda ci permette di modificare le impostazioni delle porte seriali. Mentre nella quinta possiamo collegare un'interfaccia di rete per utilizzare internet, anche se al giorno d'oggi ci sarebbero moltissime limitazioni. La sesta scheda è dedicata alla memoria. Possiamo assegnare alla nostra macchina virtuale un tot di RAM a lui dedicato, sempre in formato megabyte. Vi consiglio 128 megabyte. Sotto invece ci chiederà che tipo di configurazione vogliamo utilizzare, ovvero il modello e il tipo di CPU che è dedicato a un determinato sistema operativo. Più in basso invece ci chiederà il file ROM da poter utilizzare per avviare la nostra macchina. Basta fare anche una breve ricerca su internet e la troverete. Dopo aver preparato tutto basta premere il tasto start nella finestra e se tutto è andato per il meglio si aprirà la nostra macchina virtuale. Se non abbiamo inserito nessun disco virtuale noterete l'icconcina a forma di floppy con un punto interrogativo che ci avvisa che il disco di avvio è mancante. In casi come questo dovremo chiudere l'applicativo tramite gestione attività. Questo problema non avviene nel caso abbiamo inserito il disco di avvio e accendendo la nostra macchina virtuale potremo spegnere il nostro Macintosh attraverso la sua barra delle applicazioni. Ora siamo pronti per poter utilizzare il nostro Macintosh virtuale. Vi ricordo che con Basilisk possiamo utilizzare solo il System 7 e il Mac OS 8. Per versioni precedenti possiamo utilizzare Mini VMac mentre per le versioni successive 8.5 e 9 possiamo utilizzare Ship Shaver. Troverete tutto all'interno della mia playlist dedicata. Ma ora abbiamo a disposizione il nostro Macintosh virtuale per provare applicazioni e giochi della vecchia epoca in modo semplice e veloce. Questa era la guida su come installare Basilisk. Troverete come sempre il link in descrizione. Grazie a tutti voi per l'attenzione avuta. Vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche ma soprattutto seguitemi sui miei vari social network per non perdere tutti i prossimi video ma anche notizie, curiosità e molto altro. L'appuntamento come sempre è al prossimo video. A presto!